Ennesimo episodio contro la Lega Nord a Torino. Episodi bravissimi che ha tentati alla sede in cui purtroppo la Lega a Torino si è vista riperpeccarsi per l'ennesima volta eventi dei soliti noti. Chiediamo al sindaco Fassino di sgomberare i centri sociali perché sono gli autori e se così non facesse dovremo prendere i provvedimenti e lo renderemo responsabile quanto esecutori materiali dell'imbrattamento della sede a Torino. Al ministro Alfano che cosa chiedete? Chiediamo che venga in aula urgentemente a relazionare su questi episodi dato che le forze dell'ordine hanno già individuato i responsabili per ciò che venga a relazionare sullo sgombero dei centri sociali e sull'effettiva volontà da parte di questo governo di fermare questi atti criminali contro la Lega e contro la democrazia.